buongiorno a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale allora oggi torno con un nuovo tutorial anche se non non avevo intenzione di farlo sinceramente perché un modulino c'è di una semplicità pazzesca quindi alla fine come diciamo noi ogni tanto sono due perline in croce però sì mamma e scusate c'è il bimbo a casa e quindi non avevo intenzione di fare il tutorial però l'ho postato sui social il braccialetto che indosso io da ormai da qualche giorno infatti non lo non lo tolgo più mi è stato chiesto il tutorial e quindi vabbè ho detto di farlo quindi lo faccio tanto è semplicissimo ci vorrà un attimo e lo facciamo insieme e cercherò di spiegare i passaggi molto lentamente in modo che seguono i passaggi anche le creative straniere anche se non capiscono la lingua infatti la maggior parte che me l'hanno chiesto erano spagnole e alcune che parlavano inglese infatti io il tutorial lo farò in italiano però almeno i passaggi cercherò di farli più lentamente per far capire meglio ecco e niente allora vi presento subito i materiali tanto non sono tanti ci serviranno le 80 della toko che uso questo colore rosso non mi ricordo esattamente la colorazione poi come ago io uso un ago pony numero 10 come filo oggi userò un fire line da 0 12 o 0 14 non mi ricordo sinceramente un paio di forbici e delle pinze per chiudere e aprire i nostri anellini bene sistemo tutto e passiamo al tutorial allora come prima cosa dobbiamo inserire sul filo 4 rocaille 80 poi dobbiamo chiudere a cerchio io di filo ne ho lasciato veramente poco anche perché non serve tanto per un cuoricino così semplice ecco rientro nelle perline ecco qua tiriamo bene il filo e facciamo un paio di nodini ecco qua questo è uno e due per sicurezza tiro bene bene ecco qua adesso tagliamo il pezzettino di filo ecco qua ecco qua ecco qua si mamma adesso dobbiamo allontanarci dal nodo quindi attraversiamo un po' di perline ecco qua ok sono ripassata un po' tra le perline e adesso uscendo da un 80 qualsiasi prendiamo un 80 e ci inseriamo nell 80 successiva si un attimo mamma e un attimo di pazienza si di nuovo quindi di nuovo un 80 e ci inseriamo nell 80 successiva scusate c'è il bimbo e qui l'ultima quindi ci inseriremo in questa 80 e anche questa sull'angolo si mamma un attimo adesso uscendo dalla rocaille scusate dalla rocaille qui sull'angolo prendiamo 380 e ci inseriamo nella rocaille sull'angolo successivo ecco qua e tiriamo il filo sistemiamo un po' con le mani ecco di nuovo prendiamo 311 si 3 rocaille 80 e ci inseriamo nell 80 sull'angolo successivo e sistemiamo tutto con le mani ed ecco il nostro cuoricino che è pronto adesso dovete ripassare un paio di giri un paio di volte per rinforzare il tutto e tagliare il filo ed ecco qui che sono ripassata un paio di volte ho fatto un paio di nodini e ho tagliato il filo il nostro cuoricino è pronto ecco qua come dicevo poi qui dovete inserire gli anelini diciamo nella prima 80 delle ali vedete la prima, seconda e terza che abbiamo inserito quindi nella prima inserite gli anelini e poi se volete fare un braccialetto come questo inserite gli anelini nel cuoricino e poi mettete due pezzettini di catenella e una chiusura che ho messo questa calamita che ci sta se no attaccate più modulini come ho fatto io quindi 3 anelini, un cuoricino, 3 anelini, un cuoricino e andate così per la lunghezza del vostro bracciale e poi mettete la chiusura quindi questo sta a voi decidere come volete montarlo e come dicevo nei prossimi giorni arriverà anche il tutorial di queste orecchina lobo che sono sempre cuoricino questo è il retro sempre tema San Valentino che sono molto molto carini e piccini e niente comunque è stato molto molto semplice come avete visto con pochi materiali come al solito ecco vi presento così si presenta il bracciale questo fatto con più modulini ecco che adesso però lo apro un attimo per mettere l'altro se ci riesco scusate ecco qua vedete molto molto carino che io ci ho messo 5 modulini e questo qui anche questo è molto molto carino guardate è molto più fine più elegante secondo me è più carino così solo con un cuoricino ecco vedete è davvero molto molto carino in questo modo una semplice chiusura come vedete quindi mi piace davvero tanto semplicissimo ma molto carino bene spero di avervi accontentate a chi mi ha chiesto il tutorial e spero di vedere tante delle vostre versioni tanti cuoricini e niente vi mando un bacio e alla prossima ciao ciao ciao